Ciao ragazzi, ciao ragazzi, oggi vi ho portato un ospite speciale, un ospite che è già stato qui nel mio canale, l'abbiamo di nuovo, salutiamolo, abbracciamolo, sto parlando di Alex Z ragazzuoli Bella, bella ragazzi, grandissimo, ti ringrazio un casino perché noi ci divertiamo al solito noi, quindi Non l'ho mai fatta questa gara più lì, si prendono delle belle, si è tuttura là con i bulli, intanto faccio delle acrobazze a casa così sicuramente morirò, infatti è un fatti quasi morto però, atterraggio perfetto No, non ho capito, qua diventa storto pure Guardi qua, ci sta per forza con Rockstar e Vino per fare una grande miniatura, guarda qui Ecco, attenzione, inchia, siamo sicuri, direzione sbagliata, no, non è preso il check, non mi dico, veramente, io stavo tranquillo, non sai, ma nera da là che si andava, ci credo, no, che recupero, no, vabbè si è caduto, si è caduto, i check point non so perché fanno proprio, c'è un casino, c'è un video, uno bugato nella rampa, non lo so Allora, sai, che è successo? Si andava avanti, io invece mi sono andato nel tubo a sinistra pensando che si andava a sinistra Ah, l'altro tubo Eh, l'altro, ma, porca, non so È tutto un problema di tubi nella vita, Alex Io stavo tranquillo, vai, facciamo bulli, boom Faccio RP io Attenzione qui, eh infatti se colpisce un pallo di, diciamo, un, 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 un bingillo No, asserto, ma anche con dei palloni da calco, diciamo Si, ti dà 50 RP, 20 RP, una roba proprio ignorante Si, si Qua secondo me sono andato oltre il check point, o quasi Eh, io ho fatto un mega fail assurdo, Madonna Che cazzo di stanto ho fatto, ho fatto una cosa assurda sul cordolo Poi magari Alex se la vedrai in video e ti stupetterai E tu per fortuna non vedrai la merdata che sto facendo io perché ho fatto i fill iniziano però è giustamente effetti d'orange con la mia stessa merda di macchina che si mette davanti ai coglionazzi comunque la massacro fila, infatti mi stanno stuprando in 10.000 io cerco di recuperare 4.000 perché ho fatto il dicesimo, io quindi mi dico è equitato uno, non lo so può essere, non lo so, io non vengo un cazzo qua ho superato uno veramente quelle cose megalomanico, da questo che mi atterra davanti Paul 491 prendiamo un po' di scia, proviamo di recuperare un po' purtroppo tra me e il dicesimo c'è una distanza assurda purtroppo se no il primo sta Danny the Best, sta addirittura a 16 secondi di stacco sarà dura recuperarlo giustamente la mia perleva storta, questo è un problema che magari la massacro non ha ecco e ora, e ora non so che cazzo io ma sto per fare il secondo giro, sto sopra cavolo colpiamo pure in un dirillo, che cazzo stava baggando l'auto, non si è mosso il dirillo non si è mosso, ti giuro non si è mosso il dirillo? no, non si è mosso vabbè ma è la cosa, la mia macchina, io colpisco gli altri, gli altri sono fermi, tipo macchine di ferro, carro armati e la mia invece gira come una cretina vabbè comunque come va nel canale? stai portando quello tuo contenuti continui? si si, ho iniziato la serie delle gare stunt pure io perchè comunque è una cosa nuova, è un nuovo contenuto e non sempre le stesse poi ho fatto tutti i video sul DLC spaccato il culo e niente a chi le ha spaccato il culo? a me io al computer al mio computer l'ho spaccato il culo vorrei operare il settimo come fare otto rendering in un giorno? povero computer io pure non ho scherzato perchè ho fatto quattro video ieri l'altro ieri, ho fatto pure un bel po' di video tutti quanti qui un dicesimo da ultimo gli ho superati quelli la perchè stavano facendo porcate io ho levato l'aiuto giocato di un cuore però sto facendo un premio incredibile ora sono quinto e ho praticamente il quarto, terzo e secondo davanti qui potrei farci il pensiero intanto siamo quarti io sto facendo qua la rotatoria un altro da superare c'è la verde rete che lagga oddio quanto lagga, stava volando c'è l'albis sta volando vedo il tizio fuori della mappa che è uscito dal percorso che vuole ma che connessione c'ha della rabbia questa? attenzione, forse andiamo al terzo posto a meno che poi faccia la struzione vabbè, ci andiamo a prendere un po' di etto sì fatte due ore sono stato un po' in silenzio durante il volo proprio per noi cantanti il volo, quello il volo è il volo quindi sì, non è che... è nitte, sì, certo diciamo di così vabbè ragà quello che c'ho avanti io stava dietro di me, si è teletrasportato avanti a me con l'hug e ne ha superato addirittura? chi è? cash perdi? no, fetti ora eh, no, fetti ora in generale che è famoso per queste cose ma no, quanto l'agga se c'è l'ala nel dna non lo conoscerà come lì vabbè ragà se vi è piaciuto il video lasciate un like ringrazio alex le lascio ovviamente il link del suo canale in descrizione no, ti ringrazio e niente ragà, non iscrivetevi al canale di alex no, perché ho fatto una gara di merda, non me la merito mi piace e niente ragà, ci vediamo al prossimo video bella